eccoci ragazzi telegiornale il giorno dopo in termina allora volevo fare un attimo un'analisi più a freddo diciamo della sconfitta di ieri sera sento molte critiche verso gattuso sicuramente ha sbagliato ieri il cambio a bate calabria nel finale è senza senso quindi sicuramente li ha sbagliato sbagliato anche a non mettere prima cutrone baccaio con entrato male ma certamente non è solo colpa sua cioè noi non possiamo ogni anno che passa dare la colpa sempre all'allenatore cioè noi se la stagione va male la colpa è sempre dell'allenatore l'anno scorso sono arrivati dei dirigenti che hanno cercato di costruire qualcosa da una base che era praticamente azzerata e cosa abbiamo fatto dopo tre minuti che erano qua subito critiche giornali televisioni avevano tutti contro tutti contro avevano hanno cercato di costruire la base per la squadra di quest'anno per la squadra dell'anno scorso diciamo che poi è stata la base per la squadra di quest'anno dove i dirigenti nuovi leonardo e maldini hanno potuto inserire un solo giocatore che è gonzalo iguain altrimenti volevo vedere se dovevamo ripartire ancora da zero come gli anni prima quando avevamo i sosa i matti ternande zi bertolaci vangioni volete questa gente qui volete volete questa gente qui ancora no noi ogni anno cosa facciamo colpa ai dirigenti colpa dell'allenatore ma il milan si sta praticamente arrotando su se stesso ogni anno che passa ogni stagione uguale a quella prima ragazzi mi sembra di avere il flashback ogni anno non so ragazzi scrivetemi nei commenti come la pensate tanto lo so che molti di voi non la penseranno come me su e attuso perché la colpa non è solo sua la colpa non è solo sua cosa dobbiamo fare ragazzi i giocatori sono questi è vero però quelli dell'anno prima dell'anno prima scorso dico erano peggio erano peggio ancora grazie a berlusconi e galliani per quello che hanno fatto nei trent'anni precedenti ma purtroppo ci hanno lasciato in una situazione pessima situazione disastrosa e i dirigenti dell'anno scorso ripeto hanno cercato di ricostruire qualcosa lasciate perdere il cinese che non so neanche che fine ha fatto non me ne frega niente ma miravelli aveva fatto un ottimo lavoro e si sta vedendo quest'anno con andre silva si sta vedendo aveva preso anche conti che un ottimo giocatore purtroppo per infortunio non riesce a giocare che sì non è male ragazzi non lo so poi gli errori va bene gli errori di ieri sera di donna rum pensateci ragazzi scrivetemi quello che volete nei commenti il giorno dopo lo so che fa male però ripeto secondo me la colpa non è solo di gattuso non facciamo l'errore di dare sempre la colpa all'allenatore come ogni anno come ogni anno scusate non mi escono neanche le parole scrivetemi nei commenti come la pensate ragazzi ricordatevi di lasciare un bel pollicione all'insù e noi ci vediamo alla prossima ciao belli